Una vita in vacanza Ciao a tutti, bentornati, volevo iniziare con questo disco che è veramente forte ragazzi, lo Stato Sociale veramente mi diverte tantissimo, un gruppo molto divertente, molto simpatico ma soprattutto anche molto furbo, un testo intelligente, una canzone veramente fenomenale da cantare sempre, non riesco a smettere di cantare, allora ho detto ma sì, una vita in vacanza, così iniziamo anche il video con un po' di allegrama, però parlando sul serio il video è improntato su un argomento che è quello dei telefoni versione light, cioè le versioni diciamo ridotte, diciamo tra virgolette, dei top di gamma, perché è nata questa tendenza da qualche anno a fare la versione ridotta? E' veramente una versione ridotta che ne vale la pena o addirittura sarebbe il vero prezzo del top di gamma da attuale, quindi oramai sono diventati quasi dei top di gamma, visto le grandi caratteristiche tecniche che anche hanno? Beh, c'è da dire che queste versioni light degli smartphone top di gamma oramai sono arrivate a un punto tale che possono essere considerate dei medio barra top di gamma, quello che io penso, all'inizio ho pensato che erano dei, diciamo un discorso commerciale per fare una versione in più del telefono e quindi avere l'opportunità per la casa produttrice di avere due versioni da poter vendere, quindi fare più business, poi col tempo però la cosa è diventata un pochino più seria, cioè le versioni sono veramente complete, con dati tecnici veramente molto molto vicini a quelli dei top di gamma, il gap si sta riducendo molto, questo cosa comporta? Comporta comunque un prezzo che rimane sempre sulla linea dei 250-350 euro per le versioni light, ma un comparto tecnico e hardware che si avvicina sempre di più al top di gamma, quindi questo va a peluccare qualcosa al top di gamma, scusate, al top di gamma che ha un prezzo più che raddoppiato, voi pensate il Mate 10 Lite costa esattamente 500 euro in meno, 350 euro, 320, 350 euro, 300 euro contro gli 800, poi se facciamo gli online possiamo trovare 400 euro di differenza, magari non di più, ma dai 350 ai 450 euro in meno, cioè meno della metà, capite? avete una versione che è molto vicina a quella dei top di gamma, quindi quello che io voglio dire, è chiaro che il top di gamma rimane sempre più in là, un passo avanti con delle caratteristiche più importanti e performanti, ma il vero prezzo del top di gamma sarebbe quello delle versioni light, è questa la verità, cioè le versioni light dei telefoni, P10 Lite, P9 Lite, per non parlare poi anche di iPhone SE, o comunque tutte le versioni light, LG, che anche fa le versioni light dei suoi dispositivi, come ormai la moda si sta diffondendo, sono i veri prezzi di quello che dovrebbero essere i top di gamma, i top di gamma dovrebbero avere il prezzo di 350, 400, 300 euro, quindi quello che voi vedete nel light sarebbe il prezzo, secondo me giusto, che poi diventa online giusto dopo un po' di tempo, si avvicina, magari sta sui 500, non sui 300, dei top di gamma attuali, quindi diciamo che il top di gamma, ecco questo, se voi state attenti al discorso dei light, vi fa vedere la forbice di differenza reale che non ci dovrebbe essere tra il prezzo del light e del top di gamma, cioè un top di gamma dovrebbe costare massimo 100 euro in più delle versioni light, 350, ecco il top di gamma dovrebbe costare 400, 450 euro, perché loro fanno una versione molto vicina al top di gamma e la vendono a 350, perché vuol dire che il margine di guadagno ce l'hanno e la versione molto vicina non può costare con una differenza di un 30% 40 in più di hardware in più del doppio, 600 euro in più, capite? Quindi questo è anche un calcio diciamo indietro che torna alle case produttrici, produttrici che si trovano prezzi capite che sono comunque molto più alti rispetto a un light che si avvicina sempre di più, le ultime versioni light sono veramente telefoni che possono tranquillamente dire la loro per anni senza dover passare alla versione pro o la versione diciamo top, no? Un conto è S8, S8 Plus, lì non c'è una versione, c'è uno schermo più grande, uno schermo più piccolo, poi i telefoni sono hardware praticamente e caratteristiche tecnici identiche, le versioni light sono una cosa un po' diversa, perché adesso ormai c'è sia la versione plus che la versione normale, poi abbiamo le versioni light, ecco sono due cose un po' diverse, la versione plus è giusto che costi di più della versione diciamo schermo normale, più piccolo perché c'è differenza di materiale ovviamente, quindi c'è un costo maggiore, non ci deve essere una differenza troppo alta neanche lì, poi l'online aggiusta tutto, le versioni light invece sono versioni ridotte in termini di potenza anche, ma però oramai sempre meno, quindi quello che io penso che ben vengano le versioni light ma dovrebbero essere i prezzi del top di gamma, 100 euro in più, questo è quello che c'è da qua diciamo a capire quanto oramai anche le case produttrici si rendono conto che i prezzi sono troppo alti, che la concorrenza online è altissima, che la concorrenza della Cina è altissima, che i prezzi calano dopo pochi mesi, che costano sempre meno, la gente non cambia più il telefono spesso ma se lo tiene, alla grande perché hanno capito che i hardware vanno avanti anni, che i telefoni vanno avanti anni, non c'è più bisogno di cambiare, oramai abbiamo dei telefoni che fanno praticamente qualsiasi cosa dai 300 euro in su, anche 200 euro, 250 euro, e non c'è più questa bramosità perché sono talmente belli e tecnicamente perfetti, questo è anche grazie alle case produttrici e alla tecnologia che avanzando dà la possibilità di produrre prodotti sempre più potenti a un prezzo più contenuto e quindi questo fa sì che il mercato tra un po' taglierà la testa definitivamente ai 1000, 1500, perché anche l'iPhone X ha dovuto da 1500 tornare a 1000, adesso sta scendendo sotto... iPhone è l'esempio dell'inizio del declino del prezzo degli smartphone, ricordatevi quello che vi sto dicendo oggi, i 1400 euro richiesti sono in svendita a 1000, mai visto un iPhone dopo tre mesi a 200-300 euro in meno, perché? perché ha capito che non regge più, la gente non lo compra più, se deve comprare non lo compra quel prezzo, si tiene tranquillamente un 8, oppure un 7, un 6S, ma vanno benissimo, la differenza è minima, gli schermi sono molto paragonabili, il design è simile, il prezzo è troppo alto, quindi la gente ha capito che può permettersi tranquillamente a meno della metà di avere dei dispositivi eccezionali, qua oramai oggi abbiamo un comparto di concorrenza dalla Cina, e gli stessi versioni light per contrastare questo mercato cinese, e altri produttori che comunque riescono a fare degli ottimi telefoni a 250 euro, 300 euro, quindi uscirono a 1000 euro, incomincia a avere veramente delle difficoltà, sì per qualche anno ancora i top di gamma, anche per un discorso di marketing, di uscita, proveranno a rimanere su quel target di prezzo, ma dovranno poi ricredersi in futuro, perché per forza il calo, anche perché oramai esci con un telefono nuovo, adesso parlo S9 che uscirà, i nuovi iPhone, i nuovi LG, i nuovi Huawei, tutto quello che volete, i nuovi Sony, 800-900, ma dopo un mese costano 500, online li troverà 300-400 euro in meno dopo 15 giorni, quindi non ha neanche più senso, uno aspetta due settimane se lo porta via al 30-40%, o meno perché lo sa, e non ha più bisogno di prenderlo per forza quando esce, capite? a meno che non vuole mettere quei soldi in più, perché magari uno se lo può permettere a voglia, ognuno fa quello che vuole col suo denaro, però secondo me queste versioni light sono un esempio di quello che è il contrasto di un mercato medio, di quello che dovrebbe essere il prezzo dei top di gamma, ma anche qua all'inizio di un segnale di una riduzione dei prezzi dei top di gamma futuri, perché se tu vendi un top di gamma a 4-500 euro non hai neanche bisogno di fare, la light la vendi a 150 se la vuoi fare a 200, quindi si ridurranno anche i prezzi delle versioni light, tutto a vantaggio del consumatore, ma soprattutto ricordatevi Apple, con la riduzione dell'iPhone X di prezzo drastico sta a dimostrare che certi mercati non si possono più calcare al giorno d'oggi, per varie ragioni, era tutto per questo video, la 4k di tech è da una vita in vacanza, adesso torniamo alle prossime, ciao e grazie come sempre!